Il settore della pesca è in ginocchio dopo questa andata del coronavirus? Certo che la pesca è in ginocchio, qua in Babbagnara siamo una grossa marineria, io sono il presidente della mia cooperativa, ho due imbarcazioni di 18 metri ciascuno, tutte queste grandi promesse che sentiamo dallo Stato, tutti questi soldi, tutte queste cose. Non abbiamo avuto, io ho le barche ferme dal primo di aprile ad oggi, non abbiamo avuto neanche una lira. I pescatori sono quelli che servono quando è il momento delle elezioni, tutte promesse prima delle elezioni. E' arrivata anche la Santelli? E' arrivata la Santelli, aveva detto che poteva fare qualche cosa per i pescatori, non per la Santelli, ma qua i pescatori non li nomina nessuno. qua non ci deve essere no destra e no sinistra, i pescatori non sono figli di buona donna, sono gente che vanno a lavorare onestamente e purtroppo non sono tutelati da nessuno. Tutti questi soldi che voi dite che ci sono, che date, che fate, che dite, dove sono? Intervestate le barche tutte nel porto, che non possiamo andare a mare, tutte queste promesse, tutte queste cose, dove sono? Dove sono? Il Presidente Conte ha detto che tutte le partite IVA in Italia devono prendere 600 euro. Presidente, io ho una partita IVA che sono, ho la cooperativa, a me mi ha detto il Consulente che a me non me ne tocca. 600 euro non possono essere niente, ma per me sono, sono per me 600 euro e non sono solo questi. non abbiamo nessun tipo di alternativa. Nel momento in cui si libera questo settore della pesca, l'importante è che abbiamo la disponibilità di andare a lavorare perché non ce la facciamo più. Io ho cinque figli maschi, due figli sposati, uno tre, uno due e altri due marinai. Vedete quello che dovete fare perché i pescatori non sono figli di buona donna. Ecco, qui venne anche Salvini in campagna elettorale. Cosa ha prometto? Salvini, qualche volta l'ha nominato i pescatori, purtroppo Salvini attualmente si trova dalla parte opposta perché non ha il potere di fare se voleva fare qualche cosa. Però nel governo non si capisce niente, fanno chi è più forte e vince, però i risultati dove sono? Dove sono i risultati? Ecco, ci si prepara per la pesca del pesce spada, voi siete ancora fermi? Noi siamo fermi, sta andando qualcuno, però ancora si è preso qualche pesce, in forma di qualche pesce, però non è quello che noi possiamo vivere. Quando si incrementa la stagione che se abbiamo la possibilità di andare a lavorare, almeno vogliamo avere lo spazio per andare a lavorare, perché se no noi non lavoriamo, che cosa facciamo? Io ho 15 persone da portare avanti, tra marinai, equipaggi e tutto. La disponibilità per andare a lavorare e lasciarsi in santa pace senza essere calpestati da chi prima viene. Questo vogliamo noi. Quindi ci sono a rischio anche posti di lavoro a questo punto? Certo, qua siamo pronti a buttare la spugna, perché lo Stato dice che tutti i settori nominano, con tutto il rispetto per i settori, ma a meno ogni tanto nominati i pescatori e fate qualche cosa per i pescatori, perché i pescatori non sono figli di puttana come diciamo noi, figli di buona mamma sono. Io non lo so, perché siamo meridionali, non ho sentito mai in televisione uno che ha nominato i pescatori e dice che i pescatori sono una categoria che lavorano onestamente, con tutto il rispetto per gli altri. Io con questo ho finito, perché non c'è niente, ci vuole un libro storico per dire tutte le cose che devono essere. Quindi neanche la regione interviene su di voi? Qua non ho visto niente di nessuno io, io ho i marinaio in mercato, cassa di integrazione, cassa di integrazione, ancora non è arrivato niente e non arriverà niente, tutti i chiacchiere, i soldi delle tale che se le deve prendere se le prendi, a bassa forza, scusa tu termine, la prende solo in quel posto là. Bene, grazie, sentiamo un altro presidente qui dei pescatori, signor... Una volta, una volta, mi hanno degressato. Una situazione un po' drammatica, quella del settore pesca, si rischia posti di lavoro, oltre all'economia del paese di Bagnara. Meglio morire di coronavirus che di regole comunitarie, perché ci stanno strozzando, le regole comunitarie ci stanno strozzando, la pesca in particolare. Tanto che la pesca non serve, è un settore poco produttivo, ma guarda caso, l'Inglitterra appena è uscita, la prima cosa che ha fatto, le imbarcazioni dell'Unione Europea non possono andare più a pescare nelle acque inglesi. E non serve la pesca, e non serve la pesca. Abbiamo dato alla nuova generazione un futuro nero, noi no, perché i nostri padri ce l'hanno dato buono. Bene, hanno indirizzato bene le cose, siamo stati noi, l'era nostra, con il cambio dell'euro. Io vorrei dire a questi signori, quale referendum abbiamo fatto noi per entrare nella moneta unica? Chi è stato? Ma prima che avvenisse questo, i politici e il popolo sapevano che noi non potevamo stampare moneta? Questa è la domanda che gli voglio fare. E finiamola in nord, che ieri sera, proprio fuori dal coro, caro Feltri, se mi ascolti, viene che al sud ci sono persone come si deve, non pensare che siamo tutti come pensi tu, e non dire più quelle parole, perché sei a Milano. Anche a te, direttore di Rete 4, della trasmissione, Giordano, stai attento alle parole che dicono. Noi perché siamo piccoli, noi, del sud, e voi ci potete maltrattare con tutto quello che avete detto ieri sera. Ieri sera, perché la gente vi ascolta, insieme. Il popolo del sud è un popolo dignitoso. Io a 16 anni sono andato sulle navi, poi ho smesso all'età di 30 anni e mi sono andato con la pesca. C'era una pesca redditizia, buona, era un mondo senza regole. Quello che noi dobbiamo ritornare indietro a fare il mondo con le regole. Perché? Chi ce l'aveva piccola, l'imbarcazione se l'ha fatta grande, senza nessun controllo. Poi un buon momento, se ne sono accorti, hanno chiuso tutto, hanno buttato via tutti gli anni della nostra vita. In un colpo solo, non si fa così. Bisogna camminare con le regole. Per dire sì, la pesca, l'agricoltura, l'industria, devo partire da una cosa e devo terminare. Perché quando non si programma la cosa, si fallisce. Adesso falleranno tutti. Il 50% delle nostre piccole e medie falleranno tutti. Così come la situazione, falleranno tutti. Perché all'inizio non si è pensato di avere... Purtroppo è venuta questa cosa. Può venire qualsiasi cosa, una calamità naturale di un altro tipo. E dobbiamo piano piano riprenderci. Ma non con questo sistema che stanno facendo loro. Tutti chiusi in casa. Dando carta bianca a chi non la dovevano dare. Non si può uscire, non si può andare da nessuna parte. Non si può andare da un fratello se si sente male. Non si può andare da una sorella. Non si può andare da nessuna parte. Perché rischi continuamente. Questa è una cosa inaccettabile. Il popolo italiano non può il nostro popolo sopportare una cosa di questo genere. Dobbiamo far sì che... Per me già l'ho detto. All'inizio, quindi ho già politicamente detto il mio pensiero che è così per l'Europa. Noi, fino al 2000, eravamo, io parlo della pesca, era un popolo felice. Andavamo a mare, per bene. Portavamo il nostro pane quotidiano per bene, senza indurre niente. Adesso, con tutte queste leggi restrittive, loro non ci permettono più di andare... A mare si va, non illegale, illegale. Perché le regole che hanno messo ci permettono di non andare a regale. E quindi siamo sempre sotto pressione. Siamo sempre sotto pressione. Cara Santelli, sei venuto al porto di Bagnara per fare che cosa? Io capisco che adesso c'è il coronavirus, ma se noi dobbiamo morire, allora deve venire qua a dire cosa volete, cosa non volete, come ha fatto il Presidente della Regione Sicilia, che si è messo in televisione a parlare. Tu non ti fai non vedere e non sentire. Cosa dobbiamo fare noi? Punto. I giovani, che speranza hanno? Che speranza hanno? Che futuro hanno i giovani? Noi non abbiamo industria, non abbiamo niente da arrampicarci, da nessuna parte. E quel signore del nord, Feltri, finisce là di dire che il sud non ha dato niente al nord. E io ti farò del mio piccolo qua marinare, Bagnara Calva. Se tu sapessi quanti soldi ha dato a Brescia, dove si trova il retificio del paesino di Franciacorta, cittadini, vai, vai ad informarti quanti soldi del sud sono andati al nord. Ma non solo di quelli di Bagnara, di tutta la Calabria, di tutta la Sicilia. E a Torino, tutte le macchine, che ha comprato il sud, che ha fatturato a Torino. Non ti pensare che tu sei intelligente. Certo che il sud non fattura mai. Perché se io mi compravo la macchina Fietti, la concessione quando andavo, la Fietti che mi mandava la fattura a me. Torino, ma io ero contento. E ricordi che in uno Stato ci deve essere la parte produttiva e quella che consuma. Perché le cose funzionano. Perché se facciamo le macchine al nord, se facciamo le macchine a sud, ce le mangiamo fritti loro e impanate noi. Quindi è così che funziona la cosa. Bisogna sederci a un tavolo e fare le cose per bene. E a Renzi, quanto te ne dovrei dire? Io sono quello di Reggio Calabria, quando ci siamo incontrati. Che mi hai detto che dovevamo fare la riunione. Renzi, ricordi che c'ho sempre quella faccia pulita tu, io. E per te ho bruciato la tessera della sinistra. Per te, per te. Tu mi hai invitato a Roma e mi hai detto che mi inviti, però no. Non mi hai invitato. Grazie, grazie. Abbiamo sentito i pescatori qui di Bagnara. Sentiamo un altro pescatore. Lei prima ci diceva che è praticamente per il discorso della spazzatura che voi... Con la Regione Calabria. Sì, relativamente all'ultimo bando che ha emanato la Regione Calabria. Il vero problema è questo. Loro ci impongono su questo bando che alcuni miei soci che fanno pesca strascico hanno la possibilità di recuperare delle plastiche, tutto il materiale inquinante. Il vero problema è questo. Ma come... è inaudito. Io gli devo dire ai miei soci. Portate la spazzatura a terra che recuperate. Poi il 50% delle spese, del valore della spazzatura che andrà in discarica la devono pagare metà i pescatori e metà il comune. Ma sembra legittimo questo. Una cosa che non è creata dal pescatore. Perché come tutti sappiamo, tutta la spazzatura a mare va a finire dai torrenti, prima cosa, il passato di scarica abusiva e le correnti che la portano sugli alti fondali. E qua non ci siamo. Ma siamo sempre a punta da capo in questa Regione. Ma perché non sentono le... Cioè... I settori di categoria, gli organi di categoria, perché non li sentono? La base, perché non la sentano? Io con questi signori ci ho un contenzioso. Cioè, su un bando fatto, in corso dopo hanno variato le carte in tavola. E io mi ritrovo con 18.000 euro. 18.000 euro. Di contenzioso con la Regione. E non va bene. Non va bene così. Mio nonno diceva, chi lascia la vecchia per la nuova sa che lascia e non sa quello che ci si ritrova. Oppure a buona nuova la porta il vento. Signora Santelli, si è dimenticata di bagnare. Prima le parlavo da Presidente di Cooperativa. Adesso le parlo del gestore del porto. I tre compari, che sono dicembre, gennaio e febbraio, non si dimenticano. Il mole è sempre lo stesso. Distrutto era e distrutto è. E verranno i giorni che dobbiamo dare conto tutti. Ognuno nel suo piccolo. Poi si è dimenticata. Io glielo sto ricordando. La situazione reale è questa. Deve sentire le situazioni di categoria. E la base è venire sui posti di lavoro a rendersi conto della situazione reale. Poi noi ne parliamo della pesca. Come ci muoviamo? Muoviamo tutto. E' tutto illegale. Colpa non sua dei vincoli comunitari a che, sfortunatamente, i nostri politici hanno aderito. Sono andati là a firmare FIA. Quando la problematica del Mediterraneo non è la problematica dei mari del Norte. Perché loro hanno a che fare con tre o quattro specie. Noi abbiamo una multispecie di pesce. E non ci andiamo, però non ci azzecca non con le reti a strascico, non con pesce a spada. Non ci azzecca niente. Comunque c'è da parlare. Da parlare parecchio. Signora Santelli, un consiglio. Senta la base. Se ne vuole uscire. Ma noi non torniamo al discorso di prima. Cambia la presidenza e i burocrati sono sempre dentro. E non va bene. Stiamo preparando per la ricciola, le palamite, per quelle là. E a chi ci diamo se tutti i ristoranti sono chiusi? Prepariamo, ci riempiamo la pancia. Perché non ci hanno dato una lira. Non ci hanno dato. Perciò la comunità europea a noi non ci serve. Come non ci serveva prima. Perché eravamo la terza del mondo. Adesso siamo la settima, la ottava. A noi che cosa la vogliamo a questa comunità europea? Io ho finito. Noi ci siamo fatti sempre... La ristorazione è chiusa quindi voi andate a pescare e il pesce lo buttate? Eh, il pesce. Quello che riusciamo a vendere lo vendiamo. Dato che la nafta se ne è andata a terra e andiamo a vedere quello che guadagniamo e noi non facciamo la pancia. Perché non ci è arrivata nessuna lira da nessuno. Non mi dicono miliardi di qua, miliardi di là. Portarsi che hanno fatto i giochi di prestigio sono scomparsi. Non so dove siamo andati a finire. Mi sentite italiano? A questo momento mi sento italiano, sì. Ma in questo momento solo italiano, non europeo. Mi sento italiano, non europeo. Perché la comunità europea assimamente i pescatori ci sono rovinati. Non posso mettere una persona al ministero che mi dice a me che non posso prendere il pesce spato quando lui non capisce nemmeno di piantare un citrolo o un zucchino. Devono mettere una persona che è competente del mestiere, che sa quello che fa. Ogni settore ci vuole una persona, una categoria. Stiamo preparando l'imbarcazione per la pesca del pesce spato. Stiamo preparando l'imbarcazione per la pesca del pesce spato. Sempre, se i signori ce la fanno fare, se non ci bloccano. e poi in Calabria attualmente c'è poca cosa che aprono tutto qua in Calabria. Che ci lasciano in pace, ci lasciano lavorare. Grazie Carmelo Tripodi della Costa Viola News. Chiudiamo questo collegamento da Bagnara, dal porto. Ecco tu, come giornalista che sei sempre sulla notizia qui a Bagnara. Ecco, una marineria qui si possono perdere posti di lavoro e un'economia bruciata a Bagnara. Assolutamente sì. Purtroppo è una marineria che era già in crisi di suo. La situazione che è stata descritta non fa altro che il coronavirus aggravare questa situazione ed è vero quanto hanno detto qui i pescatori. Tantissime persone in campagna elettorale sono venute qui al momento purtroppo non si vede solo passarelle. Non si vede nessuno, Graziano, non si vede nessuno. Loro hanno necessità come tante altre categorie soprattutto nella fase di ripartenza adesso di avere un sostegno ed un aiuto. Non bastano più le parole, non basta più annunciare provvedimenti che poi non trovano riscontro nella concretezza. Questo in sintesi stanno dicendo qui i pescatori di Bagnara. Tieni presente che già siamo nel momento quasi clou della stagione nel senso che tra poco c'è la caccia al pesce spada, c'è la pesca del pesce spada, quindi c'era la necessità proprio di avere una spinta. Adesso cosa succederà non si sa. Tieni presente che tra l'altro il pescato quando riusciranno e tra poco andranno a mare i ristoranti la catena della ristorazione è chiusa, gli spacci lavorano a singhiozzo per cui c'è tutta una situazione abbastanza particolare ed è stata pienamente e degnamente espressa da queste persone che nonostante tutto nonostante i divieti i vincoli la crisi economica nonostante tutto continuano ancora in un mestiere che purtroppo sta allontanando i giovani perché anche loro da questo mestiere non riescono a trarre benefici economici. Bene, grazie grazie al giornalista Carmelo Tripodi di Costa Viola News noi chiudiamo qui da Bagnara Calabra naturalmente il tutto lo potrete rivedere anche domani nella trasmissione Zoom che va su Telespazio TV canale 11 e Calabria TV canale 15 per il momento è tutto da Graziano Tomarchio dal porto di Bagnara